Siete in ufficio e state programmando una serata con gli amici ma non avete il tempo di chiamare il ristorante? Tranquilli, ho un'applicazione che vi può aiutare anche a risparmiare. Ve ne parlo tra poco qui su Tech Princess. The Fork è una piattaforma per la prenotazione dei ristoranti, nata ormai dieci anni fa ma giunta in Italia solo nel 2015. Il servizio fa parte di TripAdvisor e vanta oltre 40.000 locali convenzionati in tutto il mondo, di cui 8.000 solo in Italia. Utilizzarlo è davvero facilissimo. Prima di tutto dovete accedere al sito www.thefork.it o installare l'applicazione gratuita disponibile per iOS e Android. Una volta entrati non dovrete far altro che inserire il nome del ristorante, la data, l'orario e il numero di persone. Se invece non avete ancora idea di dove cenare potete inserire un indirizzo di riferimento e nuovamente data, orario e numero di commensali per ricevere decine di suggerimenti. A disposizione anche tantissime recensioni che vi permetteranno di decidere dove prenotare. I vantaggi offerti da The Fork però non finiscono qui. Il servizio infatti vi mostra anche tutte le offerte attive con sconti fino al 50% che verranno poi applicati direttamente alla cassa. Dopo l'esperienza, gli utenti registrati guadagnano punti fedeltà chiamati YAMS che possono essere utilizzati per ottenere ulteriori sconti. The Fork inoltre fornisce un supporto clienti dedicato grazie a un team di professionisti specializzati, disposto ad aiutare gli utenti per qualsiasi evenienza. Il servizio è disponibile dalle 9 alle 22, 7 giorni su 7. Se invece appartenete alla categoria dei ristoratori, sappiate che entrare a far parte della rete di The Fork è facilissimo. Sul sito trovate un'area dedicata che vi permette di registrarvi per entrare a far parte del servizio. The Fork aiuta i ristoranti ad avere maggiore visibilità in rete e mette a disposizione The Fork Manager, un programma che consente di gestire le prenotazioni e di massimizzare i ricavi. Con The Fork quindi potete unire comodità e risparmio in un unico servizio. Direi che anche per oggi è tutto, io vado a prenotare un bel ristorantino per questa sera, voi intanto ricordatevi di visitare il nostro sito www.techprincess.it per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità tecnologiche. Ciao! Ciao!